io ero io ero a guardare la partita in un pub con sette studenti francesi di fianco a me è stato terribile la partita era già vinta già vinta la partita è un rammarico perché che è successo era in vantaggio l'italia eravamo più due a 15 16 secondi dalla fine fallo su fontecchio due tiri liberi fontecchio all'ottanta per cento dei liberi fa zero su due se avesse fatto uno su due due su due sarebbe chiusa praticamente chiuso ha fatto due su due di là sono andati diretti a tirare a zero zero su due si quindi siamo rimasti più due le mani il primo è uscito è uscito di poco il secondo è andato lungo purtroppo succede ed è un peccato anche perché senza fontecchio non saremmo arrivati fin lì aveva appena fatto una bomba incredibile e comunque un giocatore straordinario fontecchio e purtroppo di là sono andati a fare a pareggiare a cinque secondi dalla fine dopo la ottima rimessa ottimo schema in attacco siamo riusciti a far fare un tiro da sotto proprio a fontecchio su assis di melli mi sembra però è uscito overtime e ci hanno massacrato cioè io certo che vincessero loro all'overtime perché quando butti via la chance per vincere anzi due chance perché comunque anche il canestro da sotto eravamo riusciti a farlo noi eravamo senza gambe e soprattutto senza melli che è uscito per cinque fatti gli arbitri sono stati terribili cioè terribili ragazzi è un episodio quello tra goberto e spisso che è qualcosa di abbia no abominevole provato provo a cercarlo un minuto e venti dalla fine fa un blocco in movimento con praticamente una cosa che non si vede neanche nei campetti non ho parole ce l'ho ce l'ho ce l'ho l'ho trovata l'ho trovata l'ho trovata io l'ho guardata varie volte effettivamente non ha alcun senso aver fischiato un fallo tecnico appena si appena viene ne parliamo si no no metto la mia immagine vai vai allora io aspetta posso farlo io no questo è un'altra cosa eccolo qua eccolo qua eccolo qua è questo si qua è già andato vediamo il replay si considerate che spesso stava cercando di seguire l'uomo con la palla cioè è sufficiente un piccolo movimento di goberto vista la differenza tra i due un piccolo movimento come ha fatto di anca cioè di culo che va a prendere la spalla di spesso e il male c'è non sicuro no ma guarda secondo me un problema è di questo allora diciamo tutta che comunque gli arbitri fiba non sono i migliori arbitri europei perché c'è una la champions league che l'euro league che è la champions league del basket ha dei suoi arbitri e chi arbitra in quella competizione non può arbitrare in fiba quindi significa che gli arbitri migliori ce l'ha l'eurolega e perché sia perché paga di più ovviamente ma perché ovviamente hanno maggior prestigio quindi la competizione massima europea è stata arbitrata dagli arbitri di seconda fascia questo è un fischio che secondo me ci può stare al primo minuto a un minuto e venti dalla fine tu arbitro se non vuoi fischiare fallo in attacco ti fai beati calzi tuoi e lasci che quest'azione prosegue senza un fallo tecnico perché almeno bravo almeno ha permesso di segnare quel tiro libero che ha sparigliato la partita perché più cinque tu devi segnare quantomeno un tiro da tre e la la francia non stava segnando nel secondo tempo o quantomeno comunque devi utilizzare due possessi non ti bastano due diri da due e questo secondo me sarebbe stato sufficiente per vincere la partita questo è un fischio abominevole perché a un 1 e 24 tu la fai decidere ai giocatori e non la decidi tu arbitro e e ti dico di più se non fosse stato goberto lì era fallo per l'italia infatti nicolò ha fatto una dichiarazione che è vera che gli arbitri appunto sono si fanno hanno fischiato o non fischiato casualmente per le star e c'è un'immagine in cui nicolò ha la palla in mano lo mandate alla palla in mano gli arbitri fischiano palla 2 dove c'è fournier che gli da dietro la palla non la tocca neanche gli tocca tutti i due i polsi gli prendi i polsi così cioè ragazzi ma ma come cazzo c'è anche un canestro di manion nel primo tempo che tocca il tabellone e goberto lo stoppa dopo che ha toccato il tabellone cioè ce ne stanno questa mattina che devo fare un mea culpa per l'arbitraggio nba perché spesso ce ne lamentiamo ma questi siamo veramente a livelli a livelli bassissimi non dico l'arbitraggio è stato penalizzante giusto ma no ma è stato di scarso livello per entrambi è solo la partita di ieri esatto però però a parte ok a parte gli arbitri ieri cioè a parte i tiri libri sbagliati alla fine secondo te no ma ieri comunque l'italia è andata diciamo vicinissima a quella che è un'altra impresa ecco che secondo me era anche più difficile perché nel basket la partita della vita esce ogni tanto può essere quella con la Serbia ripeterti dopo due giorni con una squadra di altrettanto livello quindi di pari livello come la 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 Francia che è vice campione olimpica è sicuramente un segnale che questa squadra c'era dal punto di vista mentale quello che dispiace che poi alla fine l'episodio che è un episodio sfortunato che capita a tutti perché non è una mancanza è stato proprio determinato da quello che è il nostro miglior giocatore però è chiaro che nel nella complessità di una valutazione di una competizione del genere l'episodio fa la differenza per il risultato però non fa la differenza per le prestazioni chiedono vi chiedono se era giusto mettere un arbitro serbo no ma io sono scarsi tutti onestamente quello che ho visto sono scarsi tutti no però forse parlava del fatto che sì sì lo so ho capito no guarda comunque ho spiegato dappertutto anche in altre parti comunque tanto di cappello a quest'Italia però ragazzi non mi ricordo neanche più ma era uno degli episodi nella fase a gruppi che ne abbiamo parlato sì una puntata fa che era una roba di allucinante con due tiri liberi inondati adesso non hanno fatto tirare il tecnico alla Lituania eh il tecnico della Lituania sì era vabbè si tratta comunque di una delle prime delle prime partite sì però potevano gli errori potevano anche andare a nostro favore invece sono andati contro di noi casualmente tutti perché io non mi ricordo delle cose successe pro Italia contro la Francia errori arbitrali ma neanche poco la Serbia sinceramente cioè capite quindi purtroppo c'è dire che gli arbitri hanno influito molto pesantemente al di là che sono scarsi al di là che fanno errori in generale hanno fatto degli errori contro l'Italia questo mi dà molto pastiglio è da aggiungere che volevo dire una cosa rispetto ad Agu è vero che era un'altra impresa ma secondo me già rispetto alla Serbia era più fattibile perché io ho visto la partita della Turchia con la Francia e la Francia non è in una condizione eccessa no no sta facendo un europeo modesto onestamente non so neanche come ci è arrivata lì sincero dovevano essere fuori comunque diciamo che la Francia in due partite ha rischiato due partite cioè ha rubacchiato ha sbagliato l'ultimo possesso Corkmax se no probabilmente non c'erano no ma ha vinto uguale contro di noi nel senso che ha sbagliato due dirli liberi a pochi secondi dalla fine più o meno è andata nella stessa maniera sì è andata simile ma in sostanza parto da Bistu quest'Italia qua di Pozzecco promossa o no? assolutamente promossa come puoi non promuovere una squadra che intanto ha vinto le due partite per le qualificazioni mondiali prima dell'europeo perde il suo miglior giocatore leader e unico diciamo l'unica stella riconosciuta della squadra a livello internazionale che è Gallinari sviluppano un gioco di squadra hanno la migliore difesa avevano le migliori difese del campionato europeo tra l'altro sono andato a vedere cioè mi hanno scritto che avevano uno dei giocatori che avevano le migliori difese e quindi parliamo di una squadra che ha fatto molto di più di quanto ci si potesse aspettare e che ha creato un gruppo e anche un gioco estremamente bello a me piaceva molto come giocava l'Italia e sinceramente noi se avessimo segnato uno dei due tiri liberi sarebbe cambiato tutto perché saremmo andati a giocarsi tanto contro la Polonia che lì invece penso che come diceva Augusto la partita della vita l'ha già fatta la Polonia avremmo giocato contro la Polonia potevamo andare in finale cioè quindi per un tiro libero purtroppo questo è il bello e per noi il brutto del basket in questo caso però oggettivamente come fai a dire che è stato un europeo straordinario per l'Italia comunque bravo la valutazione è certamente positiva io credo che le quarti di finale fossero preventivabili o meno aspicabili alla vigilia come risultato è chiaro che noi magari pensavamo di farlo in maniera diversa certo battere la Serbia è una grande impresa a darci vicino con la Francia una grande impresa il risultato diciamo è in linea con quelle che erano le aspettative uscire così fa molto male e ti dà anche una sensazione di avere sprecato un'opportunità però ecco diciamo che i giocatori in campo comunque hanno dato il massimo e credo che vadano ampiamente promossi ecco il spin su non lo vedremo mai a questi livelli di nuovo secondo me libero la cianca ma io credo che non sia una questione di uno o di un altro giocatore per esempio questi due partiti 21 e 21 ha fatto io credo che più che altro quello che noi dobbiamo rimpiangere forse in questa in questa esperienza è il non avere una federazione forte ecco perché una federazione forte dopo la gara che vinci contro la Serbia o avere un personaggio forte di riferimento magari dico un Ettore Messina che a un certo punto quando fanno due tre porcate gli arbitri si mette davanti a tutti e dice fermi tutti perché questo purtroppo la nostra federazione il nostro movimento non c'è là guarda io ero a vedere una partita con Matteo Petrucci è caduto Augusto ragazzi come è caduto vai a cagare stavo dicendo una cosa interessante io ero a vedere la partita insieme a Matteo Petrucci che è inviato il figlio di Gianni e anche il figlio del presidente federale Gianni Petrucci e lui comunque eravamo a vedere la partita e diciamo io a un certo punto glielo volevo anche dire però che comunque serviva un intervento del padre che dovesse fare qualcosa perché ci stavano a fare le peggio zossate in campo ma il padre dove era? il padre era a vedere la partita a Berlino il presidente della federazione e che poteva fare scusa Dati? beh comunque dare due commenti sull'arbitraggio in generale non fa mai male a me sarebbe piaciuto che tra primo e secondo tempo entrava dentro lo spogliatoio una cosa che non si può fare che magari serviva però perché sono sicuro lei sta dicendo cose pesanti eh io cose pesanti volevo infatti non è che volevo che andava là ti ho capito non è che cantava l'inno non è che se c'è Messina al posto di Pozzetto cosa gli dicevo? ok diceva va bene se hai fatto un altro beh Messina più riconoscivo no ma no ma lui teneva Messina come ruolo di figura ma Messina lui teneva Messina come allenatore te lo dico io no 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 come figura cioè un che ne so un Menekin cioè mandiamoci uno che quando gli arbitri lo vedono lo riconoscono cioè noi mandiamo persone Petrucci lo vedono non sanno manco chi è pensano che ne so è l'accompagnatore piuttosto che il massaggiatore cioè serve una figura cioè loro Berlusconi no la Serbia c'ha Danilovic no le altre squadre c'hanno non so chi non so chi c'ha la Francia non so c'hanno persone riconoscibili noi non abbiamo queste figure Meyers che vorresti Carlton Meyers Carlton Meyers mandiamo uno là che ha vinto qualcosa un minuto risolvi i problemi anche del basket non mi va non mi va vabbè cos'è che hai detto Pancio no niente che sono 16-0-3 addirittura mamma mia abbiamo sforato Pistu torni domani torno domani è al sole è caldo il pancio e pistura in giro per il mondo occhio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti